e adesso una bella doccia dottore gli scienziati russi per la doccia americani russi tutti qui a fare la doccia e sanno che la caldaieriello ha il tasto benessere si preme l'acqua esce alla temperatura ideale senza sbaglio tanto benessere non scotti più mano finalmente ma dottor finalmente cieli non scotti più mano caldaieriello